Continuo a ribadire che come direbbe Brunello Robertetti, famoso personaggio di Guzzanti, dove stiamo intanto su questa terra. A dire la verità sta andando a quel paese sinceramente, visto gli eventi recenti, ma in ogni caso siamo sempre qui a cercare di portare e postare contenuti che possano aiutarci a capire più o meno come andare a districarci nel complesso mondo che ci circonda. Oggi vediamo come si è comportato il nostro portafoglio speculativo, cosa avete deciso di aggiungere tramite il link telegram che ho lasciato con il sondaggio e poi ti parlo anche di una masterclass gratuita che ti può aiutare ad approfondire come poter approcciare gli investimenti durante questa crisi russo-ucraina, ma non solo, te ne parlo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale, io come sempre sono Pasquale e questo è Io Risparmio, il canale del vostro amichevole, spero simpatico, risparmiatore e investitore della Porta Accanto. Questo 2022, forse sentendosi invidioso del 2021, ha cercato di alzare l'asticella della sfiga, portandola oltre alla prosecuzione della pandemia anche a dei venti di guerra che poi si sono diciamo verificati essere guerra e basta. Per cui è normale che il nostro portafoglio ne possa risentire. Prima di andare al pc però, visto che il portafoglio è stato creato proprio con i XTB, voglio parlarti della masterclass gratuita che XTB sta organizzando proprio per andare ad analizzare questa situazione e capire come e dove si possa approcciare l'investimento in questo periodo di tsunami investimento sociale. La masterclass sarà moderata da Maximilian Cellino, giornalista presso il sole 24 ore, incentrato su politica monetaria, su inflazione, alla luce delle riunioni ovviamente di PC e Fed, e dei nuovi avvenimenti geopolitici e performance dei mercati, per cui commodities, azioni, crypto e così via. Interverranno personaggi di tutto rispetto e ne cito solo alcuni perché sono molti, Lorenzo Codogno, LCMA del London School of Economics, Gregorio De Felice che è il Head of Research and Chief Economist di Intesa San Paolo o anche Manuela Donofrio, Head of Investment Strategy di Unicredit Group. A seguire poi ci saranno anche due workshops tenuti da due volti molto famosi qui sul tubo, comunque parlo di Marco Casario e di Gianluca Comandini. Questa masterclass tratterà argomenti come investire nel mercato per esempio in periodi di incertezza, la politica monetaria e l'inflazione alla luce appunto delle riunioni che BC e Fed hanno portato avanti e degli avvenimenti geopolitici, un po' come avevo detto all'inizio. È piena zeppa di informazioni che inizierà alle 17 e finirà quasi alle 21, per cui tante ore e tanta carne a fuoco. Come dicevo la partecipazione è completamente gratuita e nel contempo ai partecipanti verranno offerte delle opportunità uniche sotto forma di challenge, con dei quiz veri e propri e dove verranno dati ai primi tre classificati tre premi che saranno dei corsi, dei video corsi gratuiti di alcuni partner di XTB che solitamente sono molto costosi ma che ai vincitori ovviamente saranno regalati, per cui forniti in maniera gratuita. I link per registrarsi all'evento nel caso voi lo vogliate seguire in diretta sta qui sotto nella descrizione del video, ma ora basta parlare perché ho la lingua secca, andiamo al pc e andiamo a vedere il nostro bagno di sangue sul portafoglio speculativo di XTB e poi ritorniamo qui con le nostre conclusioni. Posso dire una cosa, se questo fosse stato il mio vero portafoglio sicuramente io sarei già sotto agli alberi pizzuti come dicono a Roma, sarei già bello che è seppellito, perché non sono abituato a questi throwdown, non mi piacciono, il mio portafoglio è costruito per essere molto meno volatile, molto più stabile e in questo caso non è questa la situazione. Come si può vedere Virgin Galactica al momento perde quasi un 57%, Lemonade perde un 55% quasi, Salesforce Holdings un 36% e Meta Platform un 8.88% di perdita. Tra l'altro Meta Platform come si può vedere da questo risultato, quello delle vostre scelte sul sondaggio Telegram è la posizione che è stata aggiunta, abbiamo aumentato la posizione di altri 1.000 euro, 1.000 dollari quello che è e per cui in questo modo abbiamo anche dimezzato la perdita perché abbiamo mediato il prezzo di carico. Ovviamente Meta non è Facebook come vogliate chiamarla, non è né Virgin né Lema del Sessius, è molto meno speculativa, però da un certo punto di vista in questo periodo ha subito anche lei una battuta d'arresto non indifferente sia per i mercati per la crisi russa-ucraina ma un po' per tutto il resto. Ovviamente quella di cui ho più pure in questo caso è Virgin Galactic perché rispetto alle altre due la vedo un business un po' meno scalabile nel senso quante persone al mondo ci possono essere che vogliono andare a fare un viaggio intergalattico, quante persone hanno i soldi per andare a fare un viaggio nella stratosfera, io non sono uno di quelli sicuramente, però in questo momento stiamo facendo della pura speculazione e per cui mi sento di dire che non è detto che questa sia una scelta errata. In questo caso il portafoglio si sta comportando maluccio però devo anche dire che questo meno 50% in linea di massima bisogna contestualizzarlo anche negli eventi che si sono verificati in questo periodo, cioè da un mese a questa parte Virgin, Lemonade, Celsius e Meta sono stati impattati dalla crisi russa-ucraina e questo potrebbe aver esagerato quelle che erano le perdite, comunque i drawdown, che avrebbero potuto vedere in normali condizioni di mercato. Per cui non mi sono particolarmente preoccupato da questo punto di vista, logicamente il nostro capitale in quelle tre posizioni si è praticamente dimezzato con Virgin che la sta facendo da padrona, sta galoppando, Mr. Billions, ma dico io, ma tu con i tuoi Billions non puoi un po' pompare, metticeli 2-3 miliardi su Virgin, così salgono un po' tutte le quotazioni. Scherzi a parte, il mio amico Massimo Cerignotta, comunque questo portafoglio ha questo scopo. Adesso bisogna decidere cosa fare, si va a mediare una di queste quattro posizioni, magari in questo caso non aggiungo più Meta Platform perché l'abbiamo già mediata, oppure andiamo ad aggiungere un'altra azienda che magari può essere più o meno speculativa. Vado a lasciarti alla fine di questo video proprio un sondaggio e anche in questo caso vado a far scegliere te, non aggiungerò Meta Platform per la mediazione, ma aggiungerò solo Virgin, Lemon e Celsius e poi vado ad aggiungere altre tre aziende nuove, ex novo, per capire quali sono le tue intenzioni su questo portafoglio. Dal mio punto di vista molto personale si viene da un trend negli ultimi mesi, soprattutto per quanto riguarda il Nasdaq, molto ribazzista, che è stato poi ampliato anche dalla situazione dell'invasione ucraina da parte della Russia. Per cui a meno che la situazione non peggiori, presumo che un po' riusciremo a recuperare qualcosa. Però ovviamente io non sono una persona speculativa, sono da dividendo, mi reputo un investitore totalmente diverso da questa strategia. Ovviamente vi ricordo che questo portafoglio è creato su XDB e chi volesse andare a iscriversi e utilizzare il conto demo che è gratuito, dove il link è affiliato qui sotto in descrizione. Bene, questo è quello che è la nostra prosecuzione col portafoglio e ovviamente stiamo sottoperformando lo Standard & Poor's 500 perché anche se andiamo a guardare il Nasdaq in questo momento, da inizio anno, la perdita non è stata del 50% sicuramente. Se seguite Buonanotte Mercati capite di quanto è stata la perdita. Però ve la voglio far vedere comunque in ogni caso per farvi capire che da inizio anno il Dow Jones ha perso quasi un 9,5%, lo Standard & Poor's è quasi un 1,79% e il Nasdaq ha perso quasi un 18%. Sicuramente loro stanno perdendo da inizio anno ma noi stiamo fortemente sottoperformando. Se uno avesse investito in VIX dall'inizio anno, un ETF qualsiasi sul VIX, si sarebbe trovato quasi un raddoppio del capitale perché da inizio anno il VIX, che è l'indice della volatilità intrinseca dello Standard & Poor's 500, ha fatto più 78,5%. Ovviamente noi in questo caso pur avendo un portafoglio speculativo non stiamo facendo trading, stiamo facendo comunque investimento al medio termine e poi qui non è una soluzione che potevamo andare a valutare quello di aprire e chiudere posizioni. Però magari un VIX in ambito speculativo ci potrebbe stare anche se però in quel caso si farebbe del trading. Magari fatemelo sapere nei commenti qui sotto se vi interessa fare un po' più di trading e non solo un portafoglio a lungo termine speculativo perché comunque è come se fosse un vostro portafoglio. Io ci metto solo la faccia, la strategia e poi insomma sono in mano vostra. Adesso basta parlare e ritorriamo al mio brutto faccione per le conclusioni di questo video. Eccoci arrivati anche alla fine di questo video. Ricordo che il link per questa masterclass di XTB gratuita è in descrizione qui sotto. Lascio alla fine di questo video anche un link per il sondaggio Telegram che andrà a seguire questo video nel quale andrete a scegliere quale operazione portare a termine per il prossimo video per cui per raggiungere al nostro portafoglio speculativo se aumentare una delle posizioni che sono già in essere oppure se aggiungere una nuova azienda, una nuova posizione. Mi affido alla vostra esperienza speculativa perché io sono prevalentemente un investitore da dividendo. Se il contenuto è stato di tuo gradimento ti chiedo come sempre la cortesia di farmelo capire con un bel pollicione in su sia per l'algoritmo di YouTube ma anche per me perché mi dai soddisfazione e mi dai modo di capire che il mio lavoro è apprezzato. Se poi sei nuovo su questo canale e non vuoi perderti nessun nuovo contenuto successivo iscriviti, clicca la campanella così sarai sempre aggiornato su ogni nuova pubblicazione. Anche per questo video è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!